Abbiamo dato il benvenuto questa mani ai nuovi consiglieri, componenti del Consiglio di Amministrazione che si è insediato e abbiamo ribadito un concetto fondamentale per San Michele, ovvero sia che la FEM è la casa degli agricoltori trentini in primo luogo ma la casa di tutti gli operatori dell'agricoltura a livello nazionale e internazionale. La FEM è sempre stata e vuole essere un faro di riferimento per tutti gli operatori che si curano e si premurano di dare servizio e operano nel settore primario che è un settore molto importante in un contesto che va sempre più allargandosi, va sempre più complicandosi, soprattutto alla luce degli eventi che ci stanno affliggendo. Noi ci auguriamo che la nostra attività, l'attività di questo Consiglio di Amministrazione possa essere veramente fattiva, autentica, efficace per i primi beneficiari che sono gli agricoltori ma anche per tutta la comunità trentina.